Avrebbero incassato le pensioni dei defunti, 13 denunciati nel Palermitano. Mors tua vita mea, che tradotto dal latino è la tua morte è la mia vita. E così sarebbe stato materialmente nel Palermitano. Sì, perché la Guardia di Finanza ha fiutato e scovato 13 persone, vive, che avrebbero vissuto con la pensione di altre tante persone già viventi e che vive non sono più morti. Tra Palermo, Bagheria, Termini Merese, Cefalù, Carini e Partinico vi sarebbero allora i cimiteri dei morti viventi. Sì, perché se è vero come sarebbe vero che chi muore tace e chi vive si dà pace, i presunti truffatori avrebbero sì pianto la morte dei defunti che hanno taciuto per sempre. E poi si sarebbero riappacificati nell'animo e nella tasca, incassando la pensione del morto. Anche se morto, genialmente macabro. L'ImpDAP, l'Istituto di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, sarebbe stato truffato per 1.300.000 euro. A tanto ammonterebbe la somma di denaro erogata indebitamente. Le fiamme gialle hanno scoperto la truffa, imperversando al setaccio negli uffici postali, dove ai 13 denunciati come delegati sarebbero state pagate le pensioni dei defunti. Pensate, alcuni morti anche da oltre 25 anni. Pensate, uno degli indagati non solo avrebbe incassato la pensione del genitore defunto, ma anche il sussidio di accompagnamento. Le indagini per truffa a danno dell'ImpDAP sono state coordinate dalla Procura di Palermo. Sono stati sequestrati cinque conti correnti, con un saldo di oltre 800.000 euro, due libretti di deposito e del denaro contante, riscosso agli sportelli postali, per 7.000 euro circa. ...del denaro liquido, una prova...